Creare una zona franca urbana nell'area interessata dal crollo del ponte Morandi, 22 milioni di euro da destinare al potenziamento del trasporto e la possibilità di assumere 500 persone a tempo determinato, sono alcuni dei passaggi più importanti del cosiddetto decreto Genova che entro breve dovrebbe essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Il decreto stabilisce che il commissario straordinario per la ricostruzione avrà a disposizione una struttura composta da 20 persone, dipendenti di pubbliche amministrazioni locali e centrali. La regione riceverà invece 22 milioni e 500 mila euro per migliorare il servizio regionale locale di trasporto. Al Ministero dei Trasporti sarà inoltre creato un fondo da 5 milioni per gli autotrasportatori. Per far fronte all'emergenza il Comune di Genova e la regione potranno assumere 500 persone per due anni. Per quanto riguarda la ricostruzione del ponte le somme necessarie dovranno essere messe a disposizione da Autostrade per l'Italia entro un mese dalla richiesta avanzata dal commissario che potrà operare in deroga le disposizioni di legge. A sostegno delle imprese danneggiate sarà creata una zona franca urbana con esenzioni dalle imposte, risarcimenti previsti anche per professionisti e artigiani. La Capitaneria infine riceverà un milione e 250 mila euro per ottimizzare i traffici portuali anche con l'acquisto di nuovi mezzi. Intanto dai piani presentati da Autostrade per l'Italia si evince che per la demolizione e ricostruzione del ponte, a seconda della soluzione che sarà scelta, si va da 9 a 16 mesi. Autostrade si è anche impegnate a indennizzare i cittadini interessati dalla demolizione delle case.